... Oggi parliamo di carcere con il garante dei detenuti Franco Corleone, stamani a Sollicciano partita di calcio con i giornalisti Rai. Ora affrontiamo un tema molto caro alla TGR, quello delle condizioni dei detenuti in carcere in compagnia di un ospite, Franco Corleone, che è il garante dei detenuti della Toscana. Buongiorno. Buongiorno. Grazie di aver raccolto il nostro invito. Oggi per noi è una giornata importante. Si è disputata a Sollicciano una partita dove i giornalisti della TGR si sono confrontati con i detenuti di Sollicciano. A Sollicciano si è tenuto pochi giorni fa anche un consiglio comunale nel quale il sindaco di Firenze ha lanciato una proposta in titolare ad Alessandro Margara, che è stato un pioniere, l'ispiratore della riforma penitenziaria e il carcere di Sollicciano. Lei di Margara ha anche curato un'antologia che vediamo sullo sfondo, un'antologia di scritti. Che cosa ne pensa di questa proposta? È una proposta che mi pare utile perché fa discutere di che cosa deve essere il carcere in Italia, in Toscana e a Firenze. Margara è stato un grande giudice di sorveglianza, che ha dato corpo alle idee di riforma con l'ordinamento penitenziario del 1975, poi la legge Gozzini e poi il regolamento del 2000. Io penso che siamo a una possibile svolta. In gennaio prossimo ci sarà una nuova riforma della legge penitenziaria. Occorre però tradurre le leggi dalla carta nella realtà. E questo è il nostro problema. L'intitolare un carcere a Margara lo si può fare solo se diventa un modello da additare come un luogo che realizza l'articolo 27 della Costituzione. Oggi non è così. Lo abbiamo visto con i nostri occhi, i nostri colleghi hanno disputato in carcere una partita di beneficenza. Vediamo il servizio della collega Sara Meine e poi continuiamo a parlare con Franco Corleone qui in studio. Una giornata particolare per noi giornalisti della RAI Toscana ma soprattutto per i detenuti di Sollicciano. Momenti di sport in libertà con una partita di calcio disputata sul campo del carcere di Firenze. Un'iniziativa nata in collaborazione con Luisc, Fondazione Bacciotti e la Fiorentina Calcio rappresentata dal direttore generale Pantaleo Corvino. Mi capita spesso di venire, di tornarci come mi è successo qui a Sollicciano perché deve essere vicino a chi ha difficoltà e a chi soffre. Prima della partita momenti emozionanti nella sala cinema con i detenuti in platea ad ascoltare la testimonianza di Maurizio un padre che ha perso il figlio sedicenne, Niccolo, nell'estate scorsa per un brutto tumore. Porta è un grandissimo veicolo di inclusione, socializzazione, aggregazione. Credo che se non fossero iniziative sportive non potrebbero avere questo successo. Sul campo poi è stata partita vera ma il risultato non era certamente la cosa importante della giornata. È una bella esperienza perché il calcio ti segna la disciplina, come si dice, no? Stiamo cambiando bene grazie al nostro allenatore Leonardo perché è stato sempre vicino a noi, non come allenatori ma come uno di noi. Io quando vedo il pallone il mio cervello si vuole, non penso a niente, non penso che sia un carcere. Corro dietro il pallone e le mie metti mi si liberano. Grazie mille.